E' arrivata questa mattina a Catania la nave Orione con 390 migranti a bordo, tra loro un profugo con i sintomi di una malattia infettiva che è stato trasferito nell'ospedale Spallanzanni di Roma, dove gli è stata diagnosticata una semplice varicella. Equipaggio e passeggeri dell'imbarcazione della Marina Militare sono rimasti un giorno in mare in attesa dell'esito della diagnosi sul molo. I sindacalisti del SAP che protestano contro la scarsa sicurezza e la mancata prevenzione per gli agenti impegnati negli sbarchi. Nei giorni scorsi il sindacato autonomo di polizia aveva denunciato 5 casi di tubercolosi fra gli agenti impegnati negli sbarchi fra maggio e giugno. Le condizioni del profugo sulla nave Orione quindi avevano allertato le autorità sanitarie e l'annuncio della semplice varicella ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Lo conferma il Ministero della Salute al termine delle analisi di laboratorio svolte presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive di Roma. Nella notte di ieri, fa sapere il Ministero, il paziente è stato trasportato a terra tramite idrobarca di nave Orione, successivamente giunto a Sigonella a bordo di un'ambulanza dove, imbarcato su un C-130 dell'Aureonautica Militare, nella mattinata di oggi è giunto presso la struttura sanitaria romana. Viene meno l'esigenza di mantenere in essere la quarantena adottata nella giornata di ieri sui contatti stretti del paziente. Il caso positivamente concluso ha permesso di confermare l'efficacia del meccanismo messo in atto a seguito di un accordo tra il Ministero della Salute e quello della Marina Militare, che prevede la presenza a bordo di unità navali partecipanti all'operazione Mare Nostrum di personale sanitario del Ministero per i fini di sorveglianza ed identificazione dei casi di malattia infettiva soggetti al Regolamento Sanitario Internazionale.